Sono più di 60 le sonde che sono state lanciate verso Marte, il pianeta rosso, dall'inizio dell'era spaziale negli anni 60. Una vera invasione. Quelle che sono arrivate sia in orbita sia al suolo hanno permesso di rispondere a molti interrogativi su quello che è il pianeta più simile alla Terra nel nostro sistema solare. Se oggi Marte appare come un pianeta privo di vita, miliardi di anni fa, forse, la situazione era diversa. Le prove, ad esempio, che un tempo l'atmosfera di Marte fosse più densa e in grado di permettere all'acqua di scorrere in forma liquida sono state raccolte dalla sonda della NASA Curiosity. La stessa sonda ha anche confermato che un tempo l'acqua scorreva sulla superficie. Una scoperta ancora più straordinaria è stata compiuta osservando dall'orbita la superficie marziana. Laghi con acqua liquida esistono ancora su Marte, anche se coperti dalla crosta ghiacciata spessa a un chilometro e mezzo del polo sud. La sonda Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea, fra gli altri strumenti, ha anche un radar che riesce a penetrare in profondità nel suolo marziano. L'eco delle onde radar viene ricattato dalla sonda e sono proprio questi segnali ad aver svelato l'esistenza di un grande lago sotterraneo sotto la calotta ghiacciata del polo sud. In particolare il ghiaccio è il materiale più trasparente per le onde radio, tra quelli naturali, mentre l'acqua è uno dei più riflettenti. Quindi le onde radio riflesse dall'acqua possono produrre degli echi anche a chilometri di profondità che sono più forti degli echi di superficie. Non è stata un'impresa semplice ed il merito è soprattutto di un gruppo di ricercatori italiani che ha messo a punto un sistema di verifiche grazie al quale si può essere sicuri che quei segnali erano proprio l'eco proveniente dal lago sotterraneo. La riga bianca più in alto che si vede è l'eco che proviene dalla superficie. Poi a questo seguono diversi echi orizzontali, righe più deboli, che rappresentano gli strati all'interno della calotta, mentre evidenziate in azzurro nella parte più bassa di questo radargramma sono quelle zone in cui gli echi sono più forti degli echi di superficie, nonostante provengano da un chilometro e mezzo di profondità sotto al ghiaccio. Quelle sono le zone in cui l'interpretazione del dato ha fornito l'evidenza che c'è la presenza di acqua liquida. Una delle verifiche chiave è stata condotta nei laboratori di fisica dell'Università di Roma 3. In breve, in questo apparato vengono simulate in scala ridotta le condizioni del sottosuolo marziano con le rocce e i ghiacci e le temperature a più di 100 gradi sotto zero. Su quella microscopica fetta di suolo marziano simulato vengono lanciate le onde radar per capire come rimbalzino e tornino indietro come un eco. Ricreiamo questo ghiaccio in laboratorio, quindi lo raffreddiamo alle temperature marziane e ne misuriamo le proprietà elettriche. Una volta misurate queste proprietà elettriche le utilizziamo nel nostro modello per interpretare i dati radar e quindi stabilire se la riflessione che otteniamo dal sottosuolo sia una riflessione dovuta all'acqua o semplicemente dovuta alla roccia. Altri controlli sui segnali radar della sonda vengono effettuati con complesse simulazioni al computer Alcineca, il centro di calcolo interuniversitario. In realtà, dopo la scoperta del primo grande lago sotterraneo annunciata allo scorso anno, si sta oggi verificando la possibilità che ci siano anche altri due laghi più piccoli. Un'osservazione che renderebbe più probabile che su Marte siano esistite forme di vita primordiali. Altre sonde sono in partenza per trovare indizi utili a rispondere a questa domanda. Un rover dell'ESA potrà viaggiare sulla superficie del pianeta in un raggio di 5 chilometri e perforare il suolo fino a una profondità di 2 metri. Un laboratorio di bordo permetterà di analizzare i campioni raccolti. A Torino, nei laboratori della Leonardo Thales, il rover, il cui lancio è previsto per il 2020, viene messo a punto proprio in questi mesi. Grazie a una trivella di costruzione italiana fatta da Leonardo, è possibile acquisire dei campioni di terreno fino a 2 metri di profondità. E pensiamo che questo ci dia la possibilità di accedere a delle aree che non siano state sterilizzate dalle radiazioni nel lungo periodo che è passato, tra quando sul pianeta c'erano condizioni favorevoli al sviluppo della vita e il periodo attuale. Anche la NASA sta ultimando un rover, un veicolo in grado di muoversi sulla superficie, e anche in questo caso potrà effettuare perforazioni ed analisi. Per scegliere le zone più promettenti, la NASA sta studiando un piccolo elicottero da mandare in perlustrazione a raccogliere immagini nel raggio di qualche centinaio di metri. Le esplorazioni spaziali, come si dice in gergo giornalistico, non fanno più notizia, a meno di qualche clamoroso fallimento. Ma per questi due rover marziani vale la pena di fare un'eccezione e seguire con attenzione le avventure di questi due straordinari reporter cosmici.